La donna di Paul Il ristorante Grillon, vero falansterio di canottieri, si stava vuotando lentamente. Davanti all'uscio c'era una gazzarra di grida e di richiami. Giovannottoni in canottiera bianca gesticolavano coi remi in spalla. Le ragazze, che indossavano delicate vesti primaverili, salivano con precauzione sulle iole e sedendosi a poppa s'aggiustavano gli abiti, mentre il padrone del ristorante, un Marcantonio dalla Barba Rossiccia, famoso per la sua forza, dava una mano alle pupette, mantenendo in equilibrio le fragili imbarcazioni. A loro volta prendevano a posto i rematori, braccia nuda e petto in fuori, mettendosi in posa per gli spettatori, borghesi vestiti a festa, operai e soldati, tutti coi gomiti poggiati alla balaustra del Ponticello e attentissimi allo spettacolo. A una a una le barche si distaccavano dal pontone, i rematori si curvavano in avanti, poi si ributtavano all'indietro con un movimento ritmato e sotto la spinta dei lunghi remi ricurvi le imbarcazioni scivolavano rapide sul fiume, si allontanavano, rimpicciolivano, scomparivano. Infine sotto l'altro ponte, quello della ferrovia, scendevano verso la Grenouillet. Era rimasta solamente una coppia. Un giovanotto ancora quasi in berbe, l'esile, pallido in viso, stringeva alla vita la sua donna, una brunetta magra che si muoveva come una cavalletta. Ogni tanto si guardavano negli occhi intensamente. Il gestore gridò «Via, speciatevi, signor Paul!» I due si avvicinarono. Di tutti i clienti del locale, Paul era il più ben voluto e rispettato. Pagava bene e con regolarità, mentre gli altri si facevano sollecitare a lungo, quando addirittura non sparivano, lasciando il debito insoluto. Poi egli rappresentava per il ristorante una specie di pubblicità vivente, dato che era figlio di un senatore. E quando un estraneo all'ambiente chiedeva «Chi è quel piccoletto laggiù, così avvinghiato alla sua damicella?», un cliente gli rispondeva sottovoce con aria di mistero e di importanza «Non lo conosce?» E Paul Baron, il figlio del senatore. L'altro allora non poteva fare a meno di dire «Poverino, ha preso una bella cotta!» Mamma Grion, una brava donna esperta di commercio, chiamava il ragazzo e la sua compagna «Le mie due tortorelle» e pareva commossa per quell'amore così proficuo per la sua ditta. La coppia veniva avanti lentamente. La Iole Madlenga era pronta. Al momento di salirvi, i due si baciarono ancora, tra i sorrisi degli spettatori ammassati sul pontone. E così Paul, sistemati i remi, si mosse per la Grinuilè. Quando arrivarono dovevano essere le tre, e il grande caffè rigurgitava di gente. La zattera, molto vasta, ricoperta da un tetto incatramato, sorretto da colonnine di legno, è unita all'incantevole isoletta di Croissy da due passerelle, una delle quali penetra proprio al centro dello stabilimento balneare, mentre l'altra serve ad unire l'estremità a un minuscolo isolotto con un albero piantato nel mezzo, chiamato perciò il vaso di fiori, e di là arrivava al sino a terra, accanto al botteghino dello stabilimento. Paul legò la sua barca a fianco dello zatterone, scavalcò la balaustra del caffè, e di lì, afferrando per le mani la sua amante, la sollevò, e tutti e due si sedettero a un tavolo, l'uno di fronte l'altra. Una lunga fila di carrozze era allineata dall'altra parte del fiume sull'alzaia. Le vetture ad Anolo si alternavano alle lussuose carrozze degli elegantoni e dei magnazza, pesanti le prime, con una pancia gonfia che ne schiacciava le molle, attaccate a un ronzino col collo flaccido e le ginocchia rotte, snelle e slanciate sulle ruote sottili le altre, con cavalli dalle gambe esili e tese, il collo dritto, il morso schiumante e un cocchiare contegnoso in livrea, rigido, con la frusta appoggiata sulle cosce e la testa appena fuori dal gran colletto, che arrivava in piccoli gruppi di famiglia o di amici, ma anche in coppia e da soli. Strappavano qualche filo d'erba, scendevano fino all'acqua, risalivano sull'alzaia e tutti, arrivati allo stesso punto, si fermavano e aspettavano il traghetto. Il pesante battello non faceva che andar su e giù, da una riva all'altra, scaricando i gitanti nell'isola. Il braccio di fiume, che chiamano braccio morto, su cui si affaccia il caffè galleggiante, sembrava dormire. Tanto fiacca era la corrente. Sulle onde immobili scorrevano molte iole e schifz, e sandolini e podoscafi, e jigs, una flotta di imbarcazioni di ogni forma e di ogni tipo, che si incrociavano, si mescolavano, si urtavano, si fermavano all'improvviso per uno strappo delle braccia, per poi slanciarsi avanti spinte dalla tensione dei bicipiti, guizzando vivaci come lunghi pesci gialli o rossi. Arrivava altra gente in continuazione. Alcuni venivano da Chiatù, a Monte, altri da Bougival, a Valle. Sull'acqua, da una barca all'altra, si intrecciavano risate, richiami, domande e risposte salaci. I canottieri esponevano al sole ardente la carne abbronzata e ben modellata dei loro bicipiti, e simili a fiori strani, a fiori acquatici, ombrellini da sole rossi, verdi, azzurri e gialli, appartenenti alle ragazze che dirigevano il timone, si aprivano in fondo ai canotti. A metà del cielo splendeva il sole di luglio. L'aria pareva piena di bruciante allegrezza. Non un alito di vento muoveva le foglie dei salici o dei pioppi. Di fronte, lontano, dominava Montvalérien, mostrando nella cruda luce i suoi pendii fortificati, mentre a destra il delizioso poggetto di Louvencien, seguendo il fiume, si incurvava in semicerchio, lasciando scorgere qua e là, attraverso la verzura ricogliosa e scura delle grandi file, le mura bianche delle casette di campagna. In prossimità della grenuilè, una vera folla di gitanti circolava sotto i grandi alberi che rendono quest'angoletto d'isola il più delizioso parco del mondo. Donne e ragazze, coi capelli d'un biondo artificiale, coi seni smisuratamente prorompenti ai fianchi opimi, una faccia impiastricciata di belletto, gli occhi bistrati, le labbra a color del sangue, strette e fasciate in abiti stravaganti, tracinavano sull'erba fresca il chiasso cattivo gusto dei loro abbigliamenti, mentre accanto a loro c'erano giovanotti addobbati secondo l'ultima moda, con guanti chiari, stivaletti di coppale, frustini sottili come un filo e monocoli che sottolineavano la vacuità dei loro sorrisi. Alla grenuilè l'isola si restringe e sull'altra sponda, dove è in funzione un'altra chiatta che porta ininterrottamente quelli che arrivano da Croissy, l'acqua turbinosa, tutta gorgli, risucchi e schiuma, scorre con la vivacità d'un torrente. Un distaccamento di pontieri, in uniforme come quella degli artiglieri, era accampato su quella riva. I soldati, seduti in fila su una larga trave, guardavano il corso del fiume. Nel caffè galleggiante c'era una gran folla che si accalcava, vivacissima e rumorosa. I tavolini di legno, su cui le bibite versate avevano formato rivoletti appiccicosi, erano coperti di bicchieri semi vuoti, intorno persone quasi brille. La gente parlava ad alta voce, cantava, schiammazzava. I uomini, coi cappelli spostati sulla nuca, i visi arrossati agli occhi lucidi degli ubriachi, si davano un gran da fare vociando, spinti da un naturale e animalesco bisogno di allegria. Le donne, in attesa di pescare la preda per la notte, si facevano pagare da bere. Nello spazio, rimasto libero tra i tavolini, dominava il pubblico abituale in quel posto, ossia un regimento di canottieri chiassosi, insieme alle loro compagne, con le corte sottane di flanella. Uno di essi si dimenava al pianoforte e pareva suonare con i piedi e con le mani. Quattro coppie saltellavano una quadriglia, osservate da alcuni giovanotti eleganti, ben educati, i quali potevano appartenere a famiglie per bene, ma, nonostante tutto, il marcio che era in loro appariva evidente. In quel posto si aspirava, infatti, a pieni polmoni l'aria del vizio, la crapula ben dissimulata, tutta la corruzione della società parigina. C'è un guazzabuglio di commessi di sartoria, di attorucoli senza avvenire, di giornalisti di terzo ordine, di genti uomini dissestati, di sospetti giocatori di borsa, di viver tarati, di vecchi gaudenti sifilitici, equivoca a cozzaglia di persone ambigue, in parte conosciute, in parte senza domani, in parte riverite, in parte disonorate. Truffatori, mascalzoni, ruffiani, cavalieri d'industria, cavalieri d'industria dall'aria dignitosa all'aspetto tracotante che parevano volessero dire «Il primo che mi dà del disonesto, lo sguarto». Posti come questo trasudano ad un calore animalesco, puzzano di canagliume, di galanterie da bazar. Maschi e femmine sono degni gli uni delle altre, fialeggia l'odor dell'accoppiamento e si fa un gran duello per un sì o per un no, per sorreggere reputazioni putride che le sciabolate o le palle di pistola corrodono ancora di più. Tutte le domeniche c'è qualcuno che abita nei paraggi che fa una capatina per curiosare. Ogni anno vi fanno la loro comparsa giovani e giovanissimi che vogliono imparare cos'è la vita. I bighelloni vengono a gironzolare, ingenui a perdervi sì. È giusto che sia chiamato grenuile. Accanto allo zatterone coperto dove si beve e vicinissimo al vaso di fiori si può fare il bagno. Le femmine che hanno piacevoli rotondità vengono a mettervi a nudo la loro mercanzia e a cercare clienti. Le altre, schifiltose e però imbottite di ovatta tenute sua forza ad elastici raddrizzate di qua truccate di là guardano sguazzare le sorelle con aria sprezzante. Su un piccolo trampolino si pigiano ai nuotatori per tuffarsi. Lunghi come pali tondi come zucche nodosi come rami d'ulivo ricurvi o sospinti all'indietro dall'ampia epa tutti invariabilmente brutti saltano nell'acqua facendola schizzare in alto fino a quelli che stanno bevendo il caffè. Nonostante gli alti alberi che si incurvano sulla casa gallegzante e nonostante la vicinanza del fiume un'afa soffocante invadeva quel luogo. I sentori dei liquori rovesciati si mischiavano agli odori dei corpi sudati e ai forti profumi che avevano impregnato la pelle delle venditrici d'amore e che stavano evaporando in quella fornace. Sotto tutte queste diverse emanazioni aleggiava un leggero profumo di cipria che talora spariva tornava e finiva col ritrovarsi sempre come se una mano nascosta avesse smosso nell'aria un piumino invisibile. Lo spettacolo era sul fiume dove l'incessante andirivieni delle imbarcazioni attirava gli sguardi. Le ragazze dei canotti si mettevano in mostra nei sedili di faccia ai loro maschi dai muscoli d'acciaio e osservavano con disprezzo quelle che girellavano per l'isola allo scopo di rimediare un invito a cena. Qualche volta quando si faceva largo un equipaggio lanciato a tutta velocità gli amici da terra si mettevano a gridare e allora tutto il pubblico preso da una specie di pazzia lanciava urli di incitamento. Dove il fiume si piegava ad angolo verso Chateau avanzavano continuamente nuove barche si avvicinavano si ingrandivano e a mano a mano che venivano riconosciuti i visi altri clamori si levavano un canotto coperto da una tenda con quattro ragazze a bordo discendeva con lentezza seguendo la corrente del fiume con lei che remava era piccola magra sfiorita indossava un vestitino di mussola e portava i capelli rialzati sotto un cappello di tela cerata di fronte a lei una biondona vestita da uomo con una giacca di stoffa bianca stava sdraiata sulla schiena in fondo all'imbarcazione con le gambe all'aria poggiate sul sedile al fianco della rematrice fumava una sigaretta e ad ogni colpo di remi il petto e il ventre di lei fremevano sballottati dalla scossa ancora più indietro sotto la tenda due belle ragazze alte e sottili l'una bruna e l'altra bionda se ne stavano abbracciate alla vita pur continuando a guardare le loro compagne dalla grenuier partì un richiamo ecco l'esbo e all'improvviso si scatenò il finimondo vi fu uno spaventoso pigia pigia i bicchieri si rovesciavano qualcuno saliva in piedi sul tavolo tutti gridavano in un chiassoso delirio l'esbo 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 il grido aumentava di intensità pur facendosi indistinto uno spaventevole fragore poi all'improvviso pareva ricominciare salir nell'aria coprire la valletta riempire lo spesso fogliame degli alberi espandersi fino alle colline lontane arrivare fino al sole la rematrice appena aveva cominciato a sentire quell'ovazione si era tranquillamente fermata la biondona distesa sul fondo si sollevò sui gomiti volgendo la testa con non curanza le due belle ragazze più indietro si misero a ridere e a salutare la folla l'urlio raddoppiò facendo tremare lo stabilimento galleggiante gli uomini si erano tolto il cappello le donne salutavano coi fazzoletti e tutte le voci acute o gravi gridavano all'unisono l'esbo sembrava che quella folla quella cozzaglia di gente corrotta salutasse il proprio capo come una squadra navale spara colpi di cannone quando un ammiraglio passa sul loro fronte anche la numerosa flotta di imbarcazioni applaudiva il canotto delle donne che ripartì lentissimamente per toccare terra un poco più avanti a differenza degli altri Paul tratta di tasca una chiave prese a fischiare con tutta la forza la sua donna nervosa impallidita lo aveva preso per un braccio per indurlo a desistere e adesso lo fissava erosamente ma lui sembrava esasperato infiammato da gelosia maschile da un furore profondo istintivo convulso balbettò con le labbra che tremavano dall'indignazione è una cosa vergognosa dovrebbero affogarle come cagne con un sasso al collo Madeleine allora sadirò la sua vocetta acerba diventò stridula e presa parlare velocemente come per difendere una causa che era anche la sua ma a te che te ne importa sono o non sono libere di fare quel che vogliono loro non devono niente a nessuno non rompere le scatole con le tue idee impicciati degli affari tuoi ma Paola interruppe la polizia ci deve pensare le farò sbattere a Saint-Lezer vedrai la donna sussultò tu io sì e intanto ti proibisco di parlarci con quelle là capito te lo proibisco Madeleine alzò le spalle e disse improvvisamente calma piccolino io faccio quel che mi pare se non ti sta bene fila via e subito sono tua moglie no e allora zitto il giovanotto non rispose rimase faccia a faccia con la bocca contratta e il respiro affannoso le quattro donne stavano entrando dall'altra parte del grande caffè di legno le due vestite da maschio camminavano avanti una era secca secca e sembrava un ragazzetto avizzito con i capelli ossigenati alle tempie l'altra stracolmava il suo vestito bianco col sedere tendeva in fuori i pantaloni e ondeggiava come un'oca grassa perché aveva cosce enormi e le ginocchia di dentro le due amiche la seguivano e la folla dei canottieri stringeva le loro mani avevano affittato tutte e quattro un villino proprio in riva al fiume e vivevano là come due coppie qualsiasi i loro gesti erano noti a tutti ufficiali palesi la gente ne parlava come di una cosa assolutamente naturale che anzi le rendeva quasi simpatiche anche se si sussurravano sotto voce strane storie di drammi nati dalle furiose gelosie femminili e di visite segrete alla casetta sul fiume di donne in vista di attrici rinomate un loro vicino seccato da questi petticolezzi scandalosi aveva fatto un esposto alla gendarmeria e il brigadiere con una guardia era venuto a fare un'inchiesta era un affare delicato in fin dei conti non c'era niente che potesse essere rimproverato a quelle donne le quali non esercitavano la prostituzione il brigadiere molto perplesso e perfino ignaro della natura dei crimini sospettati aveva fatto alcune domande a caso stendendo poi un monumentale rapporto che si concludeva sostenendo l'innocenza delle quattro donne che risate si era fatta la gente avevano riso sino a Saint Germain stavano attraversando a passettini lo stabilimento balneare come delle regine sembravano fiere della loro celebrità felici degli sguardi rivolti a loro superiori alla folla alla turba alla plebe ma Glenn e il suo uomo le guardavano avanzare negli occhi della donna s'accese una fiamma appena le prime due furono vicine al tavolo Marlène gridò Pauline la donna grassa si volse si fermò tenendo sempre a brazzetto la sua assistente come un mozzo femminile guarda chi c'è Marlène vieni dobbiamo parlare noi due amore mio le dita di Paul stritolarono il polso dell'amante ma Costegli disse con una certaria decisa bello mio te ne puoi anche andare allora Tacque rimase solo le donne parlarono sottovoce tra loro tre restando in piedi sulle loro labbra fiorivano rapidi motivi di gaiezza parlavano fitto fitto ogni tanto Pauline guardava Paul di sfuggita con un sorriso beffargo e maligno alla fine egli non rasse più si alzò e si slanciò verso la sua donna tremava tutto e ferrò Madeleine alle spalle vieni avanti vieni via t'avevo detto di non parlare con queste spudorate ma Pauline a gran voce cominciò a coprirlo di tutti gli insulti compresi nel suo repertorio da pescivendola intorno ridevano facevano cappannello salzavano in punta di piedi per vedere meglio e lui rimaneva interdetto sotto quel profluvio di ingiurie fangose gli piaceva che quelle parole appena uscite da quella bocca e cadute su di lui lo lordassero come immondizie davanti allo scandalo che ne era sorto si tirò indietro e si andò ad appoggiare col gomito alla balaustra verso il fiume volgendo le spalle alle donne vittoriose rimase lì a guardare il fiume e talvolta con un gesto rapido come per strapparsela si tergeva nervosamente col dito una lacrima che si era formata all'angolo dell'occhio la verità è che era appassionatamente innamorato senza saper perché nonostante i suoi istinti delicati nonostante la sua ragionevolezza nonostante la sua volontà era sprofondato in questa passione così come si può cadere in una buca piena di fango sentimentale raffinato per natura aveva sognato amori squisiti ideali intensi ed ecco che quello scricciolo di donna stupida come tutte le ragazze una stupidità esasperante nemmeno bella magra e irascibile l'aveva preso imprigionato posseduto dalla testa ai piedi anima e corpo ed egli subiva quella magia femminile misteriosa e onnipotente quella forza sconosciuta quello straordinario dominio venuto da chissà dove il dominio del demone della carne che può gettare l'uomo più equilibrato ai piedi d'un ladon che può gettare l'uomo più equilibrato ai piedi di una donna qualsiasi senza che niente di lei possa spiegarne il potere fatale e assoluto e intanto si rendeva conto che alle sue spalle preparavano qualche intrigo infame le loro risate gli si conficcavano nel cuore che poteva fare lo sapeva ma non era possibile farlo guardava fisso sulla sponda di fronte a un uomo che pescava con la lenza immobile all'improvviso costui trasse dal fiume con gesto rapido un pesciolino d'argento che guizzava appeso al filo cercò di rivar l'amo e lo torse lo rivoltò ma inutilmente spazientito cominciò a tirare e uscì qualche brandello di carne insieme a un mucchietto di interiora paul fremette lacerato egli pure sin nel profondo del cuore gli sembrò che quell'amo fosse il suo amore e che se fosse stato necessario strapparlo insieme sulla cima ricurva ad un ferro attaccato al fondo del suo essere e di cui Madeleine avesse retto il filo sarebbe uscito tutto quello che c'era nel suo petto sulla sua spalla si posò una mano ebbe un soprassalto si voltò la sua donna era tornata accanto a lui non parlarono ella si appoggiò come lui alla balaustra con gli occhi fissi sul fiume cercavano le parole da dire e non trovavano niente non riusciva nemmeno a rendersi conto chiaramente dei propri sentimenti quel che provava era solo la gioia di risentirse la vicina ritornata da lui una vergognosa vigliaccheria un bisogno di perdonare tutto di permettere tutto purché ella non lo lasciasse dopo qualche istante le chiese finalmente con gentilezza vuoi che andiamo via in barca si starà meglio ella rispose si gattino mio paul l'aiutò a scendere nell'aiole sorreggendola stringendole le mani commosso con gli occhi ancora umidi ella lo guardò sorridendo si baciarono di nuovo risalirono il fume piano piano lungo la sponda ombreggiata dai salici coperta d'erba umida e tranquilla nel tepore del meriggio tornati che furono al ristorante grion erano appena le sei allora lasciata la barca andarono a piedi in direzione di beson attraverso i prati e seguendo gli alti pioppi che costeggiano il fiume i prati nell'imminenza della falciatura erano colmi di fiori il sole calante si stendeva sopra una tovaglia rosea e nel dolce tepore del giorno morente le fluttuanti esalazioni dei prati si mescolavano ai sentori umidizi del fiume impregnavano l'aria di tenero languore una felicità leggera e riposante come il vapore di un bagno i prati nell'imminenza della falciatura erano colmi di fiori il sole calante vi stendeva sopra una tovaglia rosea e nel dolce tepore del giorno morente le fluttuanti esalazioni dei prati si mescolavano ai sentori umidizi del fiume impregnavano l'aria di un tenero languore di una felicità leggera e riposante come il vapore di un bagno una spossante mollezza calava sugli animi insieme un senso di comunione col calmo splendore della sera col vago brivido misterioso della vita diffusa nell'aria con la penetrante malinconica poesia che pareva uscita dalle piante e dalle cose per sbocciare rivelata ai sensi da quell'ora dolce e raccolta egli percepiva tutto questo ma lei no camminavano fianco a fianco e all'improvviso stufa di star zitta e la cominciò a cantare accennava con la vocetta agra e in falsetto una canzoncina in voga un ritornello che tutti avevano in mente squarciando ad un tratto la profonda e serena armonia della sera allora egli la guardò e sentì che c'era tra loro un abisso invalicabile e la batteva l'erba con l'ombrellino stava con la testa un pochina guardandosi i piedi e cantava facendo degli acuti tentando dei gorgheggi azzardando dei trilli la sua piccola fronte stretta che gli piaceva tanto era dunque vuota vuota dentro non c'era che questa musichetta da organino e i pensieri che per caso vi nascevano erano uguali a quelli della musica di lui non capiva niente erano divisi più che se non vivessero insieme i suoi baci dunque non andavano mai più in là delle labbra a quel punto il risollevò gli occhi verso di lui e sorrise ancora ne fu sconvolto profondamente e aprendo le brazze con un raddoppiato amore la strinse a sé appassionatamente poiché in questo modo le spiegazzava il vestitino madren sgusciò dall'abbraccio morborando per contentino quanto ti voglio bene gattino mio ma paula ferrò alla vita e la tracinò correndo come un pazzo e intanto la baciava sulle guance sulle tempie sul collo saltando di gioia caddero ansimanti ai piedi di una siepe incendiata dai raggi del sole al tramonto e prima ancora di aver ripreso fiato si unirono senza che capisse il motivo di quell'esaltazione stavano tornando indietro tenendosi per mano quando videro a un tratto sul fiume tra gli alberi il canotto delle quattro donne anche la grassa pauline li vide perché si risollevò mandando baci a madrenne e gridando a stasera a paul sembra che il cuore si coprisse improvvisamente di ghiaccio madrenne aveva risposto a stasera presero posto sotto un pergolato in riva al fiume e cominciarono a mangiare in silenzio quando sopravvenne la notte portarono un candeliere col globo di vetro che li illuminava ad una debole luce vacillante in continuazione si sentivano gli scrosci di risa dei cannottieri nel salone del primo piano quando furono alla frutta paul disse a madrenne stringendole la mano con tenerezza le santo stanco piccola mia se vuoi andremo a letto presto ma ella capì la trappola e gli lanciò un'occhiata enigmatica quell'occhiata perfida che appare tanto facilmente nello sguardo delle donne poi dopo averci pensato un po' rispose va pure a letto se vuoi io ho promesso che sarei andata al ballo della grenouillée paul fece un sorriso triste uno di quei sorrisi con cui si tenta di gelare le più atroci sofferenze ma rispose con tono carezzevole e affettuoso se tu volessi essere gentile potremmo rimanere qui noi due soli la donna fece segno di no con la testa senza aprir bocca e gli insistette ti prego micetta allora madrenne esplose hai capito quel che ti ho detto se non ti va vattene chi ti trattiene per quanto mi riguarda ho promesso e ci andrò paul appoggiò i gomiti al tavolo reggendosi la fronte con le mani e rimase immerso in considerazioni che lo addoloravano scesero i canottieri sempre schiammazzando ripartivano sulle loro imbarcazioni per andare al ballo della grenouillée madrenne disse a paul se non vuoi venire deciditi almeno mi ci farò portare da uno di loro paul si alzò in piedi morborando andiamo e si mossero la notte era scura piena di stelle attraversata da ventate roventi cariche di ardori frammenti germi vivi che mescolandosi alla brezza ne rallentavano il corso sui visi scorreva una calda carezza densa e pesante che accelerava il respiro rendendolo affannoso le barche cominciarono a muoversi recando a prua una lanterna veneziana non si distinguevano più le imbarcazioni ma soltanto quei piccoli falò colorati che sembravano danzare velocemente simili a lucciole in delirio da ogni parte si sentivano voci correre nel buio l'aiole della giovane coppia scivolava dolcemente quando una barca lanciata in piena corsa passava accanto a loro vedevano a un tratto la schiena bianca del canottiere illuminata dalla sua lanterna quando ebbero voltato dove il fiume faceva una curva in lontananza apparve la granuillée lo stabilimento in festa era adornato da ghirlande da festoni di palloncini colorati da altre lanterne riunite a grappoli sulla senna circolavano lentamente dei barconi che raffiguravano cupole piramidi e altri complicati elementi architettonici utilizzando lampade ad ogni colore festoni accesi quasi sfioravano l'acqua e talora un falò rosso-azzurro insieme a un'immensa invisibile canna da pesca faceva l'effetto di una grossa stella dondolante tutta quella luminaria spandeva a chiarore attorno al caffè illuminando dal basso i grandi alberi della riva che si stagliavano coi tronchi grigiopallidi e le foglie di un verde tenero sul nero profondo dei campi e del cielo l'orchestrina di cinque suonatori da strapazzo portava al vento i suoi ritmi di ballo popolare secchi e saltellanti Madeleine fu spinta di nuovo a canterillare volle entrare subito mentre Paolo avrebbe desiderato fare prima il giro dell'isola ma dovette cedere la clientela era migliorata di qualità restavano soltanto i canottieri con qualche borghese seduto qua e là e giovanotti con le loro ragazze il direttore e organizzatore di quel can-can solenne in un logro abito nero portava a spasso a destra e a sinistra il volto laido di vecchio mercante di piaceri a buon mercato la grassa Paulin e le sue compagne non erano ancora arrivate Paul tirò un sospiro di sollievo ballavano le coppie faccia a faccia saltellavano a tutt'andare buttando le gambe in aria e facendolo arrivare fino al naso del proprio compagno le femmine ancheggiando schizzavano di qua e di là in un turbinio di sottane che lasciava vedere la biancheria intima i loro piedi potevano alzarsi più su della testa con sorprendente facilità ed ondolavano i ventri sculettavano scuotevano le tette diffondendo nell'aria un forte odore di sudore femminile i maschi si accoccolavano come rospi con gesti rubrichi si contorcevano con mille smorfiocene facevano la ruota sulle mani cercando ad essere buffi e imitando gli atteggiamenti femminili con una grazia risibile una grassa servo e due garzoni servivano le consumazioni questo caffè galleggiante coperto solo dal tetto non aveva pareti che lo separassero dall'esterno e così quel ballo scatenato si svolgeva di fronte alla notte serena e al firmamento impolverato di stelle improvviso sembrò che Montvalerien laggiù di fronte si rischiarasse come se gli avessero piccato il fuoco dall'interno il chiarore si accentuò si allargò invadendo a poco a poco il cielo e descrivendo un gran cerchio luminoso di una luce evanescente scolorita poi apparve subito ingrandì qualcosa di rosso dunque rosso ardente simile al metallo sull'incudine lentamente prese forma diventò rotondo pareva uscisse da sotto la terra e presto la luna si staccò dall'orizzonte a mano a mano che saliva la sua sfumatura rossiccia si attenuava e diventava giallognola un giallo molto chiaro e luminoso e l'astro sembrava rimpicciolire a misura del suo allontanamento dalla terra Paul la stava guardando da tempo perduto in quella contemplazione e dimentico dell'amante quando si volse era sparita la cercò senza riuscire a trovarla con lo sguardo pieno d'ansietà esaminava i tavolini in su e in giù senza sosta chiedendo di lei a tutti nessuno l'aveva veduta vagava così spacimando per l'inquietudine quando uno dei garzoni gli disse cerchi la Madeleine è uscita proprio adesso insieme alla Pauline nello stesso istante Paul scorse in piedi in fondo al caffè il mozzo e le due bellone che si tenevano tutte e tre per la vita e lo guardavano bisbigliando tra loro capì come un pazzo si slanciò verso l'isola da principio corse in direzione di Chateau ma quando fu davanti allo spiazzo tornò indietro allora si mise a frugare nei cespugli a girovagare alla cieca fermandosi di tanto in tanto ad ascoltare di attorno gracidavano i rospi con il loro verso breve e metallico dalla parte di Bougival un uccello ignoto modulava qualche nota che gli arrivava indebolita dalla distanza sugli ampi prati la luna riversava un chiarore incerto come una polvere stopposa penetrava tra le foglie faceva scorrere la luce sui tronchi argentati dei pioppi picchiettava con una specie di pioggia luminosa decime frementi dei grandi alberi la poesia inebriante della notte estiva penetrava in Paul il suo malgrado passava attraverso la sua folle angoscia metteva in subbuglio con feroce ironia il suo cuore esasperando in quell'animo tenero e contemplativo il bisogno di un affetto ideale di appassionate fusioni sul seno di una donna fedele e innamorata fu costretto a fermarsi soffocato dai singozzi continui e strazianti passata la crisi riprese a girare all'improvviso gli sembrò che qualcuno lo pugnalasse dietro un cespuglio qualcuno faceva l'amore si precipitò era una coppia di innamorati e quando si avvicinò le due sagome scure si allontanarono in fretta avvinta in un bacio interminabile non aveva il coraggio di chiamare ben sapendo che Madeleine non avrebbe risposto e aveva anche una paura tremenda di scoprirle all'improvviso i ritornelli delle quadriglie con gli strazianti a solo delle trombe le risate false del flauto la guzza e la scibilità del violino gli serravano il cuore aumentando la sua sofferenza la musica vehemente e saltellante sfiorava gli alberi qualche volta attutita qualche volta amplificata dalle ventate di brezza d'improvviso gli venne in mente che lei poteva essere rientrata nel caffè sì sì doveva essere ritornata certo aveva perso la testa stupidamente senza ragione trascinato dalla paura dai sospetti confusi che da qualche tempo lo avevano assalito così in uno di quei momenti di strana calma che interrompono stati d'animo disperati tornò nella sala da ballo la percorse tutta con un'occhiata non c'era fece il giro dei tavolini e bruscamente si trovò ancora di fronte alle tre donne doveva avere un'espressione buffa e disperata nello stesso tempo perché scoppiarono in una gran risata tutte e tre contemporaneamente se ne andò tornò nell'isola si precipitò tra i cespugli ansimando si mise un'altra volta in ascolto tremando così per parecchio tempo perché gli ronzavano le orecchie infine gli sembrò di udire in lontananza quella risetina acuta che conosceva tanto bene e avanzò piano piano strisciando scostando i rami e col cuore che gli batteva così forte che non poteva nemmeno più respirare due voci stavano morborando parole che non riusciva ancora a distinguere poi tacquero allora gli venne una grandissima voglia di fuggire di non vedere niente di non saper niente di andare lontano da quella furiosa passione che lo stava portando alla rovina sarebbe tornato a Chateau avrebbe preso il treno e non sarebbe tornato mai più mai più l'avrebbe riveduta poi improvvisa l'immagine di lei lo riafferrò e la rivide nel momento del risveglio la mattina nel loro letto tiepido quando tutta l'anguida si stringeva a lui buttandogli il brazzo al collo coi capelli sciolti un po' ruffati sulla fronte gli occhi ancora chiusi e le labbra aperte per il primo bacio e l'improvviso ricordo di quell'amplesso mattutino destò in lui un rimpianto frenetico e un desiderio forse nato parlavano di nuovo si avvicinò piegato in due poi tra i rami proprio vicino a lui sudì un lieve gemito un gemito uno di quei gemiti che aveva imparato a conoscere nei loro momenti intimi nei momenti frenetici della loro tenerezza controvoglia avanzava ancora invincibilmente attratto senza avere coscienza di nulla così le vide se almeno l'avesse sorpresa con un uomo ma così così si sentiva paralizzato a causa della loro stessa infamia e rimaneva in quel posto annientato sconvolto come se avesse scoperto il cadavere di una persona cara mutilato un delitto contro natura mostruoso un'immonda profanazione allora in un pensiero involontario rapido come un lampo pensò al pesce di cui aveva veduto estrarre le interiore e Madeleine sussurrò Pauline con lo stesso accento appassionato con cui era solito dire Paul provò un dolore tanto intenso che riuscì a fuggire quanto più velocemente poteva andò a sbattere contro due alberi inciampò in una radice proseguì e ad un tratto si trovò davanti al fiume nel punto rischiarato dalla luna la corrente formava ampi vortici nei quali si rifletteva la luce l'altra sponda dominava l'acqua come una scogliera e là dove incontrava l'acqua in una larga striscia scura si sentiva il rumore dei mulinelli nel buio sull'altra sponda si potevano scorgere i casolari di Curassi in piena luce Paul vide tutto ciò come in un sogno come attraverso il ricordo non pensava più a niente non capiva più niente e tutto anche la sua stessa esistenza che appariva confuso lontano già avvolto nell'oblio già finito il fiume era un passo capì quello che stava facendo volle morire era pazzo però si girò verso l'isola verso di lei e nell'aria calma della notte in cui continuavano a risuonare i ritornelli fiocchi dell'orchestrina lanciò un grido disperato acutissimo disumano un grido spaventoso Madeline quel richiamo strisciante attraversò il largo silenzio del cielo corse per tutto l'orizzonte poi con un enorme balzo un balzo da bestia si precipitò nel fiume l'acqua schizzò in alto poi si richiuse e nel punto in cui Paul era scomparso si formarono uno dopo l'altro dei grandi circoli che si allargarono sino all'altra sponda in lucide ondulazioni le due donne avevano inteso Madeline si rialzò è Paul nell'animo le si insinuò un sospetto si è negato disse e si slanciò verso la riva dove fu raggiunta dalla grassa Pauline una chiatta pesante con due uomini a bordo girava e rigirava sul posto uno dei due barcaiuoli remava l'altro aveva immerso nell'acqua un lungo bastone e pareva cercasse qualcosa Pauline gridò che fate che cos'è successo una voce sconosciuta rispose si è affogato un uomo le due donne stravolte strette l'una all'altra seguivano le evoluzioni della barca la musica della grenuier continuava a impazzare lontano pareva che accompagnasse a tempo i movimenti di quei lugubri pescatori e il fiume che ora celava un cadavere vorticava sotto la luce le ricerche si prolungavano l'orribile attesa faceva tremare Madeleine finalmente dopo almeno mezz'ora uno degli uomini annunciò ecco l'ho trovato e tiro sul raffio ad agio ad agio un grosso fagotto apparve a pelo d'acqua l'altro barcaiolo lasciò i rami e tutti e due unendo le loro forze e facendo forza su quella massa inerte la fecero rovesciare nella barca poi vennero a riva cercando un posto illuminato e di facile approdo proprio quando toccavano terra arrivarono anche le donne appena lebbe veduto Madeleine indietraggiò inorridita alla luce della luna pareva già livido con la bocca gli occhi il naso i vestiti piani di melma le dita strette e rigide erano spaventevoli tutto il corpo era coperto da una specie di intonaco nerastro e semiliquido il viso sembrava gonfio e dai capelli appiccicati dal fango colava continuamente un rivolo d'acqua sporca i due uomini lo esaminarono lo conosci? domandò uno l'altro il traghettatore ridicolo a sì esitava sì mi sembra di aver già veduto questa faccia ma così ridotto è difficile riconoscerlo poi a un tratto ma è il signor paul? il suo compagno chiese chi è il signor paul? paul quando si è ricchi madren scivolò a terra si inghiozzando paulino si avvicinò al corpo e chiese è proprio morto? sicuro? i barcaioli alzarono le spalle dopo essere stato sott'acqua per tutto questo tempo d'altro che poi l'altro domandò era alloggiato all'albergo di Grion? sì rispose il traghettatore bisogna portarlo là dovranno darci qualche cosa risalirono sulla chiatta e ripartirono allontanandosi con una certa lentezza a causa della corrente veloce anche parecchio tempo dopo che non furono più in vista dal luogo ov'erano rimaste le due donne si continuò a sentire il tonfo ritmato dei remi allora paulino prese tra le braccia la povera madren piangente le fece mille carezze la baciò a lungo la consolò che ci vuoi fare? mica è stata colpa tua? non possiamo impedire agli uomini di far delle fesserie se l'è voluta e allora peggio per lui in fin dei conti poi la sollevò su cara vieni a dormire con me non puoi andare dai Grion proprio stasera la baciò un'altra volta su su ci penserò io a guarirti ci penseremo noi madren in piedi seguitava a piangere ma con singulti più deboli poggiò il capo sulla spalla di Pauline come per rifugiarsi in un affetto più intimo e più sicuro più familiare e più certo e poi si allontanò a piccoli passi a piccoli passi Grazie a tutti.